Giovedì 16 novembre, buongiorno Friuli e bentrovati a questa nostra prima diretta di oggi, una diretta dedicata come sempre alla lettura delle notizie principali dei quotidiani di oggi, una diretta che vogliamo iniziare con una bella immagine che ci arriva quest'oggi da Barcis, andiamo a vederla subito con l'aiuto della regia, ecco la Barcis dove in questo momento ci sono 5 gradi e 4 decimi, vediamo alle spalle le montagne innevate, poi anche il lago, andando a dare un'occhiata alle altre località della nostra regione, rimanendo in montagna, vediamo che in questo momento ci sono meno 5 decimi di grado a Tarvisio, meno 3 gradi e un decimo sul Monte Lussari, 6 decimi di grado positivi sullo Zoncolan, 7 gradi e mezzo a Tolmezzo, a Udine, 8 gradi e tre decimi, 5 gradi e tre a Pordenone, 6 gradi a Gorizia, 9 gradi a Trieste. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo da poco nuvoloso a temporaneamente variabile, con tempo migliore in mattinata. Sulle Alpi Giulie è probabile maggiore nuvolosità e sulla costa soffierà ancora Bora, forte al mattino con raffiche non oltre i 100 km orari a Trieste, sostenuta nel pomeriggio. Le temperature oggi le massime raggiungeranno i 12-15 gradi in pianura. E dopo il meteo, la viabilità, andiamo sul sito di Autovie Venete, vediamo assieme qual è la situazione in tempo reale, al momento la cartina che vediamo in primo piano sul sito di Autovie non ci segnala incidenti o situazioni di traffico particolari, vediamo però l'avviso in zona Trieste del vento forte, quindi attenzione anche alle condizioni meteo, in particolare appunto nel tratto triestino della A4, la costiera e la grande viabilità. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, vediamo assieme i titoli di apertura. Ecco il Corriere della Sera, la prima pagina del Corriere della Sera che apre con la replica dell'Italia alle osservazioni fatte dall'Unione Europea sui conti del nostro paese. La difesa dell'Italia su conti e debito Bruxelles sbaglia, Gentiloni dice non siamo più il fanalino di coda. Il premier risponde ai dubbi della solidità dell'economia italiana espressi dal vicepresidente della Commissione Europea, Katainen. Il consigliere Gutgeld dice accuse inaccettabili perché l'Europa teme il ritorno dell'instabilità. E vediamo in prima pagina sul Corriere della Sera la foto del presidente dello Zimbabwe, Mugabe. Ieri mattina abbiamo letto la notizia del colpo di Stato in questo paese dell'Africa centrale, la fine del presidente padrone. Dopo 37 anni finisce l'era di Robert Mugabe, il presidente padrone dello Zimbabwe di fatto agli arresti domiciliari nella villa a nord di Arare. Con lui la moglie Grace che il prossimo mese sarebbe diventata numero due del partito di governo. I militari però dicono che non si tratta di un golpe. Ancora andiamo a centro pagina i temi della salute. Svolta nelle cure genetiche è modificato il DNA del paziente. Primo test negli Stati Uniti, tre mesi per capire se funziona. Potrebbe essere una svolta per la medicina. Gli scienziati americani hanno modificato il DNA di un paziente di 44 anni affetto da una rara malattia metabolica, la sindrome di Hunter. Ora dovranno passare almeno tre mesi per sapere se la nuova tecnica funziona. L'immunologo Alberto Mantovani dice una frontiera che dobbiamo esplorare, ma cautela sugli embrioni. Andiamo a scorrere velocemente le altre aperture. Andiamo su Repubblica. Ecco il titolo. Ius Soli subito legge. Ecco la prima mossa per la pace a sinistra. Entro l'anno il voto. Il governo metterà la fiducia. Pensioni, sanità, biotestamento, i punti della trattativa. Il dado è tratto, scrive Repubblica. Lo Ius Soli sarà legge prima che finisca l'anno. PD e governo hanno deciso. Il provvedimento sarà all'ordine del giorno del Senato subito dopo l'approvazione della legge di bilancio, ossia nella prima settimana di dicembre. E Palazzo Chigi porrà la fiducia per superare l'enorme mole di emendamenti quasi tutti presentati. Dalla Lega, confortati dalla disponibilità di MDP, dalle dichiarazioni dei verdiniani e dalla non belligeranza degli uomini di Alfano alla ricerca di un porto sicuro in vista delle prossime elezioni, Renzi e Gentiloni hanno dato il via libera ai dem di Palazzo. Madama. E vediamo poi a centropagina questa foto di Trump e Putin. L'asse segreto di Trump con il Cremlino, una ragnatela di affari, dossier e sesso. Queste le rivelazioni di collusion nel libro inchiesta sul Russia Gate. E ancora andiamo a vedere anche una notizia che troviamo nel taglio basso. Si parla dell'inno di Mameli. L'avevamo intravista prima anche sulla prima del Corriere. Fratelli d'Italia diventa per legge inno ufficiale dopo 70 anni la giusta rivincita di Mameli. Ora che anche per legge l'inno di Mameli è finalmente inno nazionale, continueremo a storcere il naso davanti ai suoi versi che grondano di sangue e ardore patriottico. Questo l'inizio dell'articolo di Repubblica. E poi vediamo un flash sul calcio. Azzurri, Tavecchio, licenze, avventura e va in trincea. Io non mi dimetto. Scorriamo le altre aperture. Andiamo sulla prima del manifesto. Ecco il titolo. Il numero ONU. La Libia non rispetta i diritti umani. Si sapeva, non ha mai firmato la convenzione di Ginevra. Intervenendo alla Camera, il ministro degli interni Minniti sotto accusa all'ONU rivendica l'accordo con Tripoli ed ha quasi per necessarie le violenze subite dai migranti. Intanto Oxfam denuncia fondi europei per lo sviluppo usati per blindare le frontiere africane. Questa è l'apertura del manifesto di oggi. Andiamo a vedere anche il giornale. Ecco il titolo di apertura. Fisco furbetto spunta un altro caso di tasse non dovute. Dopo l'Atari arriva il balzello sugli Atenei. Rette illegali. Case occupate. Lo Stato deve risarcire i proprietari. Ancora andiamo anche su Libero. Vediamo il titolo di apertura dedicato alla sanità. Quest'oggi la sanità italiana migliore del mondo, si chiede Libero. Il vanto del welfare è uno scandalo. All'ospedale Cardarelli di Napoli mancano i letti e un uomo è stato ricoverato. Così, vediamo la foto, adagiato su una serie per quasi 24 ore. È l'ultimo caso di una lunga serie e ci diamo tante arie dicendo che la salute è un diritto, ma è solo un rovescio, scrive Libero. Andiamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano che apre con le novità per quanto riguarda una nuova inchiesta sul comandante generale dell'arma dei Carabinieri del 7. Altra inchiesta su del 7, il comandante dell'arma accusato di favorire le manovre del sindacato cocer. Abuso d'ufficio per gli ufficiali trasferiti. I PM dicono archiviamo. E poi, ancora sempre sul Fatto Quotidiano, il PD è sempre più solo, Fassino snobbato da Grasso e da Lema. Per la coalizione il mediatore DEM può contare solo sulle liste. Civetta, primo flop per l'ex sindaco di Torino che deve riallacciare i rapporti con i potenziali alleati a sinistra del PD. Nessuna apertura dai leader di MDP, ma c'è la Lorenzin, scrive il Fatto. Ancora, andiamo anche sulla prima pagina della stampa, vediamo anche in questo caso il titolo di apertura. Si parla dell'intervento di Di Maio, vede Parolin prove di disgelo con la Santa Sede. Intervista al leader Grillino che dice taglierò le tasse alle imprese come Trump. Di Maio ha incontrato il segretario di Stato Vaticano durante la sua visita negli Stati Uniti. E poi vediamo la fotonotizia, ci porta a parlare del Po, un manifesto per salvare il Po. Inquinamento e siccità, una ventina di associazioni in campo per curarlo. Ed ecco questa immagine del delta del Po. Andiamo anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo l'apertura di oggi. Industria, Unione Europea all'attacco di Amazon e Alibaba. Confindustria dice bene le norme anti-dumping per la Cina. Lettera a Juncker dai big cento dei marchi europei, troppi i falsi venduti online. Inedita alleanza di imprese europee contro la contraffazione. Cento tra i più grandi gruppi industriali di beni di consumo hanno scritto a Juncker per denunciare la scelta sorprendente della Commissione europea di non dare la priorità alla lotta contro i beni contraffatti in vendita sulle piattaforme e-commerce come Amazon e Alibaba. Intanto il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme anti-dumping che tra l'altro imporranno ai partner extra-europei di conformarsi agli standard sociali, ambientali, internazionali per evitare sanzioni. Andiamo un salto anche sulla Gazzetta dello Sport così vediamo anche le ultime novità sportive che poi approfondiremo nel corso della seconda parte della nostra rassegna stampa. Il titolo di apertura di oggi è Ancelotti non basta. Tavecchio non si dimette, lavoriamo per prendere un grandissimo allenatore. lunedì i programmi, si punta all'ex tecnico Rosso Nero che però non si legherebbe a una FIGICI debole. Ventura non lascia ma si fa cacciare per incassare gli ultimi 800 mila euro. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e andiamo a spostare ora la nostra attenzione sui quotidiani locali Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino. Vediamo il titolo di apertura del Messaggero Veneto. Banca Popolare di Vicenza, ecco i debitori VIP friulani da Zamparini a Iacquinta, imprenditori, costruttori ed ex calciatori. Il Messaggero Veneto propone oggi appunto l'elenco dei debitori della Banca Popolare di Vicenza, volti noti anche, della nostra regione. Nelle pagine interne c'è tutto l'elenco, noi andiamo avanti leggendo anche le altre notizie e vediamo a centropagina, anche qui si torna a parlare dell'esonero di Ventura, ma Tavecchio non si dimette dopo il disastro azzurro. Il Presidente così sfida Malagò e vuole scegliere il nuovo CT, scrive Pietro Oleotto. E poi Bruno Pizzul che racconta e ricorda un episodio del passato, Belfast 1958, l'altra eliminazione, in panchina c'era l'Udinese Foni, un tuffo nella storia, quello che propone oggi Bruno Pizzul. Cambiamo argomento, andiamo nel taglio alto. Tasse scatta oggi il primo salasso, un dossier della CGA di Mestre dice che ogni italiano quest'anno verserà in media 8 mila euro allo Stato. Il fisco roba da matti e tanto per rendere evidente la cosa c'è una bella immagine di una camicia di forza che idealmente blocca l'agire dei cittadini e imprese. I mutari, tasi, burocrazia, addizionale IRPEF, ritenuta da conto, fattura elettronica, spesometro, visto di conformità. Tanti balselli a carico dei contribuenti e vediamo appunto nelle prime pagine del Messaggero Veneto tutti gli articoli che fanno il punto della situazione. Prima rata del salasso in Friuli Venezia Giulia 1,1 miliardi di tasse. Oggi una delle due scadenze di novembre. Si pagano IVA e IRPEF. Quest'anno ogni contribuente verserà appunto in media 8 mila euro allo Stato. E qui vediamo appunto questa maglietta fisco roba da matti. Andiamo a leggere anche le altre notizie. Andiamo, rimaniamo nel taglio alto e vediamo questo annuncio intesa vuole rimborsare gli investimenti in diamanti. Anche in questo caso poi nelle pagine interne abbiamo tutto l'articolo. Ma andiamo di spalla adesso per tornare a parlare del giallo, dell'avvelenamento da taglio. Ecco il titolo. Cresce la preoccupazione. Noi nel mirino senza un perché, dice uno dei figli del Zotto deceduti proprio a seguito di un avvelenamento da taglio. Non siamo tranquilli perché non capiamo davvero da cosa derivi la contaminazione. Ho un'opinione, ha detto Domenico del Zotto, ma la tengo per me anche per rispetto dell'attività degli inquirenti preoccupati. Sì, ovviamente. Questo è il richiamo in prima pagina e poi nelle pagine interne vediamo tutto l'articolo con l'intervista a uno dei membri della famiglia che al momento è uno dei pochi non contaminati. Ecco il titolo. Una famiglia nel mirino, non capiamo perché. Parla Domenico del Zotto, figlio dei coniugi deceduti in ottobre. Avvelenati dal taglio anche i suoceri, non siamo tranquilli. Restano i dubbi. Per quanto riguarda l'ipotesi che l'avvelenamento possa essere avvenuto a Varmo, Domenico del Zotto dice è un'ipotesi da scartare, stando agli ultimi sviluppi. I genitori di mia moglie non sono mai passati per il Friuli. Intanto proseguono le indagini degli inquirenti che sottolineano il fatto che la sostanza, il taglio, è stato ingerito. Le intossicazioni collocate in due distinti momenti. Ora l'indagine si concentra su Nova Milanese. E anche qui poi ci sono tutti i particolari nell'articolo. Torniamo in prima pagina adesso. Andiamo a scorrere ancora qualche notizia di cronaca. Andiamo a vedere di spalla si autoaccusa della morte del padre. La vittima gestì negozi a Lignano. Questo è il titolo in prima pagina. Poi anche in questo caso abbiamo tutti i particolari nelle pagine interne. Ecco l'articolo. Il figlio si autoaccusa della morte del padre. Luciano Nino Frisiero, noto a Lignano per aver gestito diversi locali, era morto nel 2016. La confessione riapre il caso. Era stata archiviata come morte naturale, quella di Luciano Nino Frisiero, 77 anni, deceduto a Oderzo il 24 settembre dell'anno scorso. Nelle scorse ore la clamorosa rivelazione del figlio Carlo, che ha dichiarato di averlo ucciso per alleviare le sofferenze derivate dalla malattia. Il caso è stato riaperto proprio sabato sera, quando Carlo, 44 anni, psicologo-antropologo che risiedeva con il genitore, si è presentato nella caserma della compagnia dei carabinieri di Bologna Centro per confessare di aver ucciso il padre soffocandolo con del cibo e scacciare in questo modo i rimorsi che da oltre un anno lo tormentavano. Queste sono le ultime notizie di cronaca. Rimaniamo in questa doppia pagina perché troviamo un altro articolo richiamato anche in prima che ci parla dell'inchiesta per le bonifiche della Laguna di Grado e Marano. Morettone Ciani verso la prescrizione. La richiesta è giunta dal PM nell'udienza davanti al GUP di Roma. Verrebbero a cadere molte accuse anche per Menchini. È stato il pubblico ministero Alberto Galanti ieri nell'udienza davanti al GUP del Tribunale di Roma a proporre la prescrizione per i reati contestati a Paolo Ciani, Gianfranco Morettone, in buona parte a Gianni Menchini, assessori regionali pro tempore i primi due, direttore scientifico il terzo, imputati nella max inchiesta che ipotizza bonifiche fantasma nella Laguna di Grado e Marano. scatterebbe così la prescrizione per gran parte delle accuse contestate ai commissari delegati per la Laguna. Ecco ancora il titolo e l'articolo a pagina intera. Torniamo un attimo sulla prima del messaggero Veneto. Andiamo nel taglio basso. Andiamo a leggere velocemente altre due notizie che troviamo nel taglio basso. Altro che santo era favorevole alla guerra. Il cardinale contestato, l'ex sindaco comunista di Aquileia, Lodovico Nevio Puntim, è un fiume in piena. La fama di santità del cardinale Celso Costantini proprio non gli va giù. Ecco il titolo. E poi si parla delle lezioni di storia in programma domenica al Teatro Nuovo Giovanni Daudi nell'ossessione turca, figlia della propaganda. A parlare sarà lo storico Franco Cardini. Andiamo sul messaggero Veneto di Pordenone adesso. Andiamo a vedere le notizie principali. Andiamo subito sulla prima pagina del fascicolo di Pordenone. Si parla dell'emergenza migranti, vertice sui profughi, rifugiati, scocca l'ora delle scelte. Dal dormitorio al riparto delle quote la prefettura riceve i rappresentanti di Comune e Croce Rossa. Sarà un nuovo tentativo di mediazione, quello proposto oggi in prefettura al Comune di Pordenone e alla Croce Rossa per quanto riguarda l'argomento richiedenti asilo. Si parlerà di dormitorio ma non soltanto. Un nuovo vertice dunque oggi in prefettura per cercare di risolvere il problema dell'accoglienza di questi profughi. Andiamo anche sulle pagine del piccolo, il piccolo di Gorizia e Monfalcone. Vediamo il titolo di apertura. Chiamate al 118 ritardi da Limare. Tre quarti degli interventi d'emergenza sforano di poco gli otto minuti previsti. Questo è il titolo di apertura del piccolo di oggi. Andiamo a vedere anche l'articolo nelle pagine interne. Vediamo subito la doppia pagina con tutti i numeri che analizzano le tempistiche di intervento appunto del 118. Ambulanze in ritardo, sistema da migliorare. Report della regione sulle criticità dei meccanismi di gestione dell'emergenza. Sforati in tre casi su quattro i tempi di intervento previsti per codici rossi e gialli. In Friuli Venezia Giulia le ambulanze arrivano spesso in ritardo rispetto ai tempi previsti dai parametri nazionali per i casi più gravi. Lo rileva il report elaborato dall'ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi che fotografa lo stato di salute del nuovo sistema della gestione delle emergenze. Dai dati emerge che la situazione regionale si accoda a quella riscontrabile in tutte le regioni italiane che risultano non in regola con paletti più rigorosi di quelli in vigore nel resto dell'Unione Europea e destinati a essere rivisti a breve. Questa la notizia e poi anche qui abbiamo tutti i dati, tutti i numeri con i tempi di intervento. Vediamo anche le parole dell'assessore Telesca che difende l'attivazione del numero unico per le emergenze, l'1-1-2 e accelera sul via alle centrali territoriali. Ecco ancora il titolo e l'articolo con le parole dell'assessore Telesca che tra l'altro ha sottolineato un fatto di cronaca avvenuto ieri. Oggi si è ferito un bimbo a forni di sopra, è intervenuta l'ambulanza di Ampezzo, un'ambulanza che non c'era prima del piano emergenza voluto dalla giunta Serracchiani. Questo è il tweet dell'assessore regionale alla salute. Vediamo anche le parole di chi è operativo, chi lavora in questo settore. Michele Chittero, direttore sanitario del Legas, parla di paletti troppo rigidi. Siamo tra le regioni più efficienti d'Italia. E poi ancora anche Orietta Olivo, responsabile del Welfar per la segreteria regionale della CGL, infermiera di professione che dice resta molto da fare ma rispetto a prima la regia è migliorata. Questa è la notizia di apertura del piccolo di oggi. Siamo sulla prima del piccolo di Gorizia. Vediamo anche la fotonotizia a centro pagina. Si parla del Collio Dei che tinge di giallo l'intero stivale. Sette bianchi in degustazione in 15 città italiane. Il 23 novembre il Collio parte alla conquista dello stivale. In quella data sette prestigiosi vini bianchi prodotti nell'Izontino verranno proposti contemporaneamente in 15 città italiane. Da nord a sud, isole comprese, con la caratteristica Livrea Gialla. L'iniziativa è del Consorzio di tutela Vini del Collio e dell'Associazione Sommelier. Ma andiamo anche nelle pagine interne. Vediamo velocemente le prime di Gorizia e di Monfalcone. A Gorizia ancora il tema del passaggio dei tir per le vie cittadine. I no tir dicono camion padroni delle strade del centro. Prove di dialogo fra Comune e il Comitato che si batte contro il traffico pesante per le vie cittadine. Il Comitato chiede più controlli. L'assessore dice faremo tutte le verifiche. Andiamo anche nel Monfalconese. Prima di spostarci sulle pagine di Trieste e del Piccolo anche qui vediamo il tema dei trasporti, in particolare delle Bramme. 3 milioni per ridurre i tir di Bramme. Una parte di fondi servirà per avviare il trasporto con navi via mare. L'altra per compensare i costi di trasporto su rotaia. 3 milioni di euro per ridurre il traffico pesante dei tir carichi di Bramme di acciaio dal porto di Monfalcone a San Giorgio di Nogaro attraverso la via del mare e la ferrovia. Come annunciato la Regione ha messo sul tavolo i fondi per attivare i nuovi servizi di trasporto alternativi alla gomba dando risposta al Comune di Monfalcone e a tutti gli altri sul tragitto che va fino a San Giorgio e che da anni sono in rivolta per i danneggiamenti alle arterie stradali e soprattutto per la pericolosità degli articolati che hanno scatenato molti incidenti. Ecco ancora il titolo. Andiamo anche sulle pagine di Trieste del Piccolo in questo caso ci sono i danni del maltempo della Bora in particolare in primo piano ecco la fotonotizia a centropagina a Barcola la Bora abbatte il platano sopra Tamoil raffiche oltre i cento all'ora e altri danni. Ecco la fotonotizia a centropagina e poi anche in questo caso nelle pagine interne tutti gli articoli e tutte le foto città e porto in panne nel terzo giorno di Bora strade chiuse per intonaci e alberi caduti navi costrette a largo. Ed ecco ancora le immagini dei vigili del fuoco intervenuti in vari punti della città la centrale che pulsa tra briefing dei capi allarmi simultanei nella sala operativa dei pompieri triestini in queste ore a risultare determinanti sono la lucidità e il sangue freddo e c'è anche una smart che è stata spinta in acqua dal vento ecco la foto è accaduto sulle rive di Trieste cambiamo quotidiano e andiamo adesso sulle pagine del Gazzettino per chiudere questa nostra prima parte di Rassegna Stampa vediamo la prima pagina del quotidiano del nord est autonomia via libera al piano Veneto sì della regione alla legge non votano il PD e un grillino ora la trattativa con il governo i punti sono 23 competenze 9 decimi delle tasse e una quota del canone Rai Zaia parla di un mandato forte per questa contrattazione per questa trattativa con il governo e poi vediamo anche qui Tavecchio Cacciaventura ma lui rimane a un fatto di cronaca sempre in Veneto investito al corteo muore un profugo ma andiamo adesso nelle pagine interne andiamo sulla prima pagina del fascicolo dedicato al Friuli vediamo velocemente i titoli di apertura anche qui la lista nera dei debitori della Banca Popolare di Vicenza c'è anche il consorzio a Ussacorno ora in liquidazione tra i clienti più esposti della Banca Popolare di Vicenza il liquidatore Pezzetta sicura l'istituto avrà indietro una parte dei soldi ci sono ipoteche su diversi terreni ancora vediamo a centropagina donne e violenze 492 sono i casi di violenza sulle donne segnalati in un solo anno nel Friuli Venezia Giulia femminicidi in campo la regione stop a linguaggi o anche singole parole inappropriate sul tema della violenza sulle donne in una terra che soltanto negli ultimi tempi ha dovuto registrare l'uccisione di due donne la regione promuove una serie di incontri di sensibilizzazione e poi velocemente le altre notizie SOS pensioni e giovane è solo il 20% di chi lavora i sindacati friulani lanciano l'allarme cambiare la legge Fornero e poi ancora ente camerale unico la regione molla sul ricorso la regione non affiancherà la camera di commercio di Pordenone nel ricorso contro la creazione di due enti camerali in Friuli Venezia Giulia che vedrà appunto la camera di Pordenone unita a quella di Udine di spalla gli interventi fondi del Ministero dell'Istruzione per sistemare le scuole scuole a rischio sismico in arrivo 18,5 milioni e poi ancora a Udine incendio in sauna ospiti in fuga è successo a Magnano in Riviera ecco il titolo e poi andiamo nel taglio basso il comune dà lezioni su come portare il cane a passeggio a Udine per quanto riguarda gli spettacoli grandi musical da Trieste a Udine nel mese di gennaio a Udine arriva il musical Mamma Mia al teatro nuovo Giovanni da Udine e poi per quanto riguarda lo sport udinese il problema è ora Lars tra poco vedremo il perché nel corso della nostra rassegna stampa sportiva noi adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi proseguiremo questa nostra diretta concentrando la nostra attenzione sui quotidiani sportivi di oggi a tra poco